a me piace molto vedere la televisione perché secondo me esprime spesso proprio la fotografia di marcia società made in Italy forse a me non piace proprio questo motivo no cazzo perché a volte secondo me un po' il gusto dell'ordio perché fino a dove cazzo si arriva in fondo è importante e usare i figli del mare le vittime del mare come strumento politico e di cazzo di leva di terrore e di paura è una delle cose più ignobili che un essere umano possa parlare a un altro quindi cioè noi stiamo ridendo ma stiamo sorridendo ma stiamo sorridendo in maniera isterica non è se Salvini fosse qui smetteremo subito di subito ma gli auguro una traversata in canoa senza remi in quel del Mediterraneo vediamo dove cazzo arriva come cazzo arriva sta merda ma una cosa pazzesca quindi ecco Refugisi in realtà è davvero un urlo di benvenuto in realtà a queste persone che scappano da qualcosa di orrendo che non si pone anche proprio di scrivere sono superato e ho detto ecco ecco noi ci sono cercato come così quindi è veramente un piccolo dettaglio un po' più un dettaglio proprio così che sfugge molto infatti in quella televisione merda che dice per me è una bella fotografia della società merda una volta in tanto per farmi cazzare tu te la fai me la fu me la fu io non ce la faccio e vabbè hai messo il fronte unico comunque benvenuti rifugiati e il fronte è messo la mia rifugia nei miei minuti del mondo soldi per le parche e mercanti la barca affonda per avidità salvi le banche non gli immigranti è la banca rotta dell'umanità ammassati sulle navi non è l'arca di noi